Chiamiamo sul palco invece due imprendetrici siciliane, Caterina Di Chiara, dove sei? Non ti vedo? Caterina Di Chiara ci sei? Perfetto. E Assia? Dove sei? Eccoti, vieni con noi. Prego. Un applauso anche per loro se possiamo. Assia ricordami il tuo cognome, perdonami, sono la rosa, perdonami. Da dove cominciamo? Vi racconto che è successo, è successo che io oggi sono arrivato e a un certo punto ho stravolto completamente la scaletta, quindi stiamo andando quasi a braccio, non abbiamo un pezzo di carta che ci ricordi, uno è molto più alto, uno è più basso, ci mettiamo insieme? Come vogliamo fare? Li livelliamo? Lo sai fare tu Gianluca? Guarda, io dopo la figura delle bacchette non so se provarti. Allora intanto volevo cominciare con una cosa. Da cosa cominciamo? Un microfono, un altro microfono. Che dici? Io volevo chiederti intanto un biglietto da visita che mi poteva servire. Cominciamo con un biglietto. Questo è il suo biglietto da visita, però adesso poi ce lo devi spiegare. Aspetta, dicevo anch'io. Per una comunicazione pulita, high press. Vedrai anche uno mail, effetti. Biglietto da visita, glielo apro e dopo un'ora e mezza di diretta ne posso aver bisogno, questo serve per? Per pulirsi le mani. Per igienizzare. Per igienizzare, mi sto igienizzando. Mi racconti perché questo è il biglietto da visita di high press? Perché high press è un'azienda tradizionale, nata due anni e mezzo fa. Ha come core business l'ufficio stampa, quindi old media, un'azienda tradizionalissima, nuova per un contesto come Catania. Tu che formazione hai? Studiato scienza di comunicazione? Io ho fatto un percorso inverso, ho studiato a Roma, poi ho studiato a Milano, a Napoli, a Madrid e sono tornata. Scienza della comunicazione. Scienza della comunicazione con un master, un progetto che si chiamava multimedia skill. Era un progetto del Politecnico di Milano che cercava di formare giovani umanisti e trasformarli in imprenditori. Io sono contento della tua formazione perché ne parlavamo prima con Salvo Mizzi che è un po' il Deus Ex Machina di Working Capital. Uno dei filmati di Buttafuoco diceva non cercate gli innovatori, i nuovi mille, fra quelli che studiano scienza della comunicazione. Tu adesso ci dimostri che buttafuoco e ci hai sbagliato. Raccontaci l'innovazione che hai portato invece. L'innovazione è semplice. Io sono una giornalista professionista, lavoravo presso il quotidiano della mia città, la Sicilia, con cui ovviamente continuo ad avere collaborazioni, però a un certo punto mi sono detta creiamo un'azienda che si occupa di uffici stampa e non solo con i media tradizionali, ma con le nuove tecnologie. È lì che nasce il Press 2.0, è lì che nasce la buona reputazione online, l'indicizzazione attraverso i portali di informazione, l'informazione che si basa su criteri di trasparenza, di etica e di ontologia professionale, è lì che nasce però il più bel progetto che era chiuso qua dentro. Ma tu perché sei venuto con la busta della spesa oggi? Perché questo è il progetto di iPress reale, quello che incide sul territorio. L'anno scorso... Cioè quando diciamo letteralmente che con i giornali alla fine uno ci deve avvolgere il pesce o le uova, la spesa, tu hai fatto una busta della spesa con i giornali, ma hai fatto anche di più mi pare. Ti racconto brevemente, l'anno scorso ho fatto un brevissimo corso in impresa sociale, ci dissero tornate a casa, guardate nelle tasche della vostra azienda e provate a trasformare gli scarti in valore aggiunto per il vostro territorio. Bene, noi compriamo tantissimi giornali ogni giorno per la rassegna stampa, così questi giornali non vanno a finire nei rifiuti, neanche in quelli differenziati, vanno a finire nelle mani di disabili mentali, di una cooperativa del nostro territorio che ogni mese... Come si chiama la cooperativa? La Grazia, è la cooperativa di Caltagirone che noi ringraziamo sempre, dico noi perché è la squadra che lavora per questo progetto e questi ragazzi, soprattutto donne, disabili creano queste shopper per noi che poi vengono utilizzate nelle conferenze stampa, che poi vengono distribuite all'interno delle rotative del quotidiano la Sicilia, ai ragazzi delle scuole che fanno visita per imparare cos'è un giornale, cos'è l'informazione e ti dirò di più perché il più bel progetto è questo, le pupezze, che sono delle bambole che vengono fatte con dei materiali di scarto, sono dei prodotti di riutilizzo e adesso vogliamo entrare, vogliamo entrare in questa cooperativa, vogliamo sostenere l'associazione, vogliamo esserci perché l'impresa, sì, ovviamente è business prima di tutto, però per noi sicuramente è etica, per una comunicazione pulita. Bravissima. Questa qua ve lo prendete, facciamo una clip, la mandiamo a buttafuoco e gli diciamo che cosa fanno oggi gli studenti di scienze, anzi laureati di scienze della comunicazione. Questa è tua e un'altra per te. Grazie, onoratissimo. Caterina, a te, altro settore completamente. Caterina Di Chiara intanto. Caterina Di Chiara, io ho un'impresa familiare e gestisco questa impresa da circa 10 anni, il mio settore è completamente diverso perché si rivolge alle fonti alternative, quindi noi realizziamo impianti fotovoltaici e da circa 5 anni realizziamo impianti da 3 kilowatt, quindi proprio per singole abitazioni, a grandi impianti, il più grande di tutti attualmente quello fatto in Sicilia è questo fatto da noi che è di 740 kilowatt, è stato fatto praticamente da… La tua è un'azienda familiare, l'hai fondata, è una startup? No, io sono tra quelli fortunati, ho un'azienda familiare che è giunta alla quarta generazione, noi siamo tutti grandi lavoratori, ho studiato all'estero, per essere preciso ho studiato a New York, poi sono stata a Salamanca, poi sono ritornata in Italia e mi sono laureata in giurisprudenza che non c'entra assolutamente nulla con quello che noi facciamo perché noi progettiamo e realizziamo impianti di tutti i tipi, quindi prendiamo un edificio, lo realizziamo per intero e cerchiamo ora almeno da 5 anni di trovare un risparmio energetico per l'edificio stesso, quindi partiamo dall'eliminazione delle fonti fossili, quindi eliminazione del petrolio per quanto riguarda il riscaldamento e cerchiamo di eliminare per esempio le luci come in questo momento ci sono e trasformiamo luci con le luci a led. Stiamo sprecando un po' adesso, proviamo a farlo meglio, per la prossima tappa ricordiamoci di chiedere a Caterina Di Chiara di fare un impianto led che hanno un consumo inferiore e che quindi risparmiano da questo punto di vista. Poi in questo momento stiamo finendo, abbiamo finito questo impianto che è di 740 kW e l'abbiamo realizzato grazie al lavoro di tutti i miei dipendenti, noi abbiamo 3 sedi, una a Palermo, una a Messina e una a Catania, abbiamo utilizzato 45 squadre perché abbiamo avuto necessità di saldatori, abbiamo avuto necessità di elettricisti, quindi 18 squadre di elettricisti a coppie di due e altre 6 squadre che si sono occupate invece del collegamento e del soprelevamento in quanto noi abbiamo realizzato l'impianto su un tetto di un capannone industriale nella provincia di Palermo. Fondamentalmente, avevo portato qualche foto per far vedere com'era. La troviamo su un sito però, dici il sito? Il sito è servizienergiacalore.it Servizi, ti lo piano che poi ti perdono tutti. Servizienergiacalore.it Va bene, energiaecalore.it Noi praticamente oltre a questo impianto stiamo provvenendo a realizzare anche un impianto di cogenerazione e una biomassa. Ti chiedo una cosa, una delle categorie della gara di quest'anno è il Tour de Mille relativa, lo diceva prima Gianluca Dettori, al Clean Tech. Tutte le tecnologie per l'ambiente, l'energia eccetera. Voi andate a vedere le università tra i ricercatori, collaborate. Sì, infatti noi abbiamo una collaborazione con l'Università degli Studi di Messina e con l'Enea di Roma. Noi stiamo cercando di realizzare degli impianti fotovoltaici per le facciate, quindi l'integrazione totale dell'impianto nella facciata principale di un edificio, quindi di una nuova costruzione. Questo farebbe sì che oltre alla diminuzione del 30% del risparmio del caldo e quindi anche nello stesso tempo del freddo, darebbe l'energia elettrica allo stesso edificio, se mettiamo il caso è un edificio di abitazioni, ha le abitazioni all'interno di questo edificio. Chiaro. Una delle cose che ci diceva prima l'Enea, la difficoltà per le donne di fare impresa. Lei ce lo dice guardandola da Milano, oggi abbiamo sentito che a volte la Sicilia si sente periferia dell'impero. Alla fine è uguale, se uno ha una buona idea maschi e femmini siamo uguali o partite un po' svantaggiate? Secondo il mio vissuto, io e mia sorella, noi siamo due donne, non siamo in competizione, io sono la più piccola però ho una visione di più di sacrificio nei confronti dell'azienda perché ho iniziato con mio nonno a lavorare, quindi di conseguenza ho questo impegno e lo vedo. Sicuramente una donna ha più difficoltà perché viene all'inizio presa come non capace però in realtà le capacità sono le stesse. Non capace? Sì. E tu che dici? Noi siamo tutte donne, tutte al femminile. Ottimo, bravissima! La cosa bella, dalla consulente di lavoro, alla commercialista, alle giornaliste, all'operatore video, tutte donne, tutto un mondo al femminile. Quanti siete? In azienda dentro 5, ancora una piccola azienda in fase di start up, è nata due anni fa con diversi collaboratori, il logo è fucsia quindi non si può sbagliare, la cosa ne parlavo con la professoressa Schillaci che ha seguito tra parentesi la fase di start up e ci è stata molto vicina, la scelta è venuta per affinità elettiva ma lo dico realmente e noi siamo una famiglia, io per questo voglio ringraziare Valentina, figli, Lusi, Lidia, Ursula, tutti quelle che lavorano con me perché è una grande squadra e al femminile veramente va avanti spedita, io sono molto contenta di questo, viva il rosa, viva il fucsia nel nostro caso. Va bene, su questo vi salutiamo e vi ringraziamo, grazie Assia, grazie Caterina, grazie di questa bella, queste belle storie che ci avete raccontato.